Mi raccomando, ricordatevi, per fare qualsiasi lavoro di manutenzione per quello che riguarda l'accensione elettronica, è importante sapere che le parti elettriche a vista in questo piano sono sotto tensione, quindi abbiate molta precauzione. Carissimi amici, buongiorno a tutti. Oggi in questo nuovo filmato vi parliamo di accensione elettronica, di come è costituito il circuito che permette il funzionamento dell'accensione elettronica e analizzare qualcuno dei guasti principali che si possono verificare, che sicuramente vi saranno capitati anche voi in casa. Allora, il sistema dell'accensione elettronica è costituito da alcuni elementi, non molti. E questi elementi sono il trasformatore, chiamato anche treno scintille, le varie candelette dell'accensione elettronica e i pulsanti messi in serie tra di loro, e questa serie è chiamata catenaria, in modo tale che alla pressione della manopola il pulsante permette la chiusura del circuito e quindi lo scoccare della scintilla. Il trasformatore, che è questo, che la sua funzione è quella in pratica di portare la tensione a livello tale da poter far scoccare la scintilla tramite la candeletta. Quindi la corrente, la 220, entra nel trasformatore e il trasformatore ha diverse uscite, una per ogni candeletta. E quindi porta la tensione necessaria allo scoccare della scintilla tra la candeletta e il bruciatore. Tra il trasformatore e la candeletta c'è un altro componente, che è la catenaria, che è questa che vedete con questi fili rossi, che in pratica è una serie di pulsanti dove ogni manopola ha il suo pulsante. Quindi voi, alla pressione della manopola, che cosa avviene? Avviene che il pulsante viene premuto, si chiude il circuito e permette lo scoccare della candeletta. Questo è in grosse linee il funzionamento di principio del circuito dell'accensione elettronica. A questo punto possiamo analizzare i vari guasti, i vari problemi che si possono verificare in questo circuito. Fondamentalmente i problemi possono essere due. O l'accensione elettronica non funziona su nessuno dei fornelli, oppure magari ne funzionano solo tre e una non funziona più. Quindi, in genere, se non funziona più su nessuno dei fornelli, nella maggior parte dei casi è dovuta sicuramente dal trasformatore, che non è in grado di far uscire la tensione necessaria al funzionamento. E in questo caso, quindi, bisogna sostituire il trasformatore. Nel caso che, invece, l'accensione elettronica si fermi, si blocchi soltanto su uno dei fornelli, per esempio su questo qua, allora potrebbe ridipendere sempre dal trasformatore o dalla candeletta stessa. Quindi, per capire se dipende dall'uno o dall'altro, si potrebbe usare questo sistema, chiamiamolo un po' empirico, nel senso che la candeletta difettosa basta staccare il suo cavetto e posizionarlo nella posizione di un'altra candeletta funzionante. Quindi, se la candeletta, in questo caso, riprende a funzionare, vuol dire che allora dipende dall'uscita del trasformatore. Se altrimenti, di nuovo, la candeletta continua a non funzionare, evidentemente, dipende dalla candeletta. In questo caso, allora, va sostituita la candeletta. Allora, un'altra possibilità di guasto è sempre, per esempio, quella se non funziona una sola delle candelette. E dovete fare anche questa prova, perché potrebbe dipendere anche dalla catenaria. Allora, dovete provare a premere il fornello della candeletta difettosa. E, allo stesso tempo, premere anche un altro fornello. Se si accende in queste condizioni, allora vuol dire che il problema è sulla catenaria. E quindi andrà sostituita questa catenaria, che è un sistema di pulsanti collegati l'uno con l'altro. E quindi va sostituita tutta insieme. Quindi, anche se un solo pulsante è difettoso, bisogna sostituirla in completo. Questo, però, bisogna dire che non è vero su tutti i piani cottura. Per esempio, in questo tipo di piano cottura specifico, come vedete, ogni pulsante ha i suoi morsetti. E quindi può essere smontata e sostituito soltanto il pulsante relativo. Invece, alcune catenarie sono tutte montate insieme, non sono staccabili, e quindi va sostituita al completo. Per quello che riguarda poi la sostituzione della catenaria, per maggiori informazioni, potete visionare il nostro video per avere dettagli maggiori. Ora abbiamo parlato dei problemi dell'accessione elettronica. Però c'è da dire che alcuni altri problemi si possono verificare in un piano cottura. Per esempio, premendo un pulsante, poi accendete, poi al rilascio vi si spegne, quindi non rimane acceso. Questo problema è dovuto dalla termocoppia, che è questo componente qua, di cui abbiamo fatto un filmato, che potete vedere, per vedere come si agisce per la sua sostituzione. Un altro problema che si può verificare è che magari un fornello non si accende completamente. Quindi questo vuol dire che c'è stata un'ostruzione dell'ugello. E anche qui, vedendo questo nostro filmato, potete vedere come si può risolvere il problema smontando l'ugello e farne la pulizia. Cresci miei amici, vi ringrazio e vi saluto a tutti di cuore. E ci vediamo al prossimo filmato. Ricordatevi comunque di seguirci sia sul canale YouTube che su Instagram, di commentare e naturalmente di iscrivervi. Grazie a tutti, arrivederci. Grazie a tutti.